raga siamo qui c'è un nuovo video e oggi dobbiamo scuovere mio fratello ciao fede che fai? non va bene niente ti devo chiamare che fai? non ci chiamiamo ok raga aveva quasi dubitato che io stassi registrando avete visto come ho guardato la telecamera? vabbè niente oggi stavo dicendo faremo la challenge 24 ore devo spiegare il mio fratello niente raga mi lascia per arrivare fede si è confinato tutto ehm 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 Federico ehm oh calmati ti stavo chiedendomi fede ma che evite vuoi fare dopo? vuoi fare tutto questo? perchè? perchè? vabbè ehm 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 vai dai ti aprivi la strada? vuoi? poi 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 mi sembra hanno fatto il gioco di granny o? se le fai pulisciti le mani che sono tutte sporche nooo nooo non sono sporche la bocca la bocca no ok poi lo sarebbe no non c'è voglia adesso facciamo fare una bozzoletta vabbè intanto che facciamo fai il fede tu fai le cose come fai di solito tranquillo sss tu devi stare al tuo meglio io io intanto sto col telefono in mano non lo so tanto per tanto per ti sei tanto bene? nooo lo uso tanto per tanto chi se ne fotte lo uso no tu non lo usi un cazzo che mi sto spendo te lo ti vedo e lo chiederemo io dopo te però rislava che tipologia di video vorresti fare? ma è il neighbor è il neighbor eh? cioè io dovrei essere il neighbor no io dovrei essere il vicino si tu il vicino eh? tu il vicino e poi? poi Renni? Renni? poi no ok poi poi dobbiamo decidere vabbè fede si poi vediamo che tipologia di video fare io so solo che te ne puoi anche andare via capito? perchè sei così strano? ma io non sono strano io non sono proprio strano io sono felice invece c'è un segreto che poi ti farò leggere vabbè ci vediamo dopo allora fede per registrare raga ci ha creduto oh shit fede fede tranquillo non ho detto non ho parlato con i ragazzi ho detto federico ho detto luna ciao stupido sta dicendo alleluia alleluia ciao raga che cos'è che stai giocando non ho capito bene stai giocando perchè gioca a fornite vede 10 minuti avviamo il video dici? comunque stai giocando stai giocando a fornite mi raccomando fai una vittoria reale per me per me la farai mai c'è che insieme non c'è voglia non c'è voglia di installare fornite cioè già ce l'ho installato fede però non c'è voglia di fare tutti quegli aggiornamenti da telefono se vuoi gioco da tastiera cioè gioco da bray gioco da bray dopo e qui non c'è voglia che cavolo eh che cavolo ah beh quindi fede tu giochi a fornite qual è il problema della tua giornata giocherai a fornite e poi e mi giocherai a fornite aspetta voglio vedere quella cosa è cambiata dammi dammi cazzo ma guarda guarda va a fare un brodo me lo dai un attimo a favore un attimo mi serve la schermata cazzo va bene dammi cacchio eh allora vediamo com'è sta switch ma che cavolo ma perchè sta switch è colorata di nero che carina oh yeah vabbè tieni ma però dammi la mia switch perchè ti do da la switch perchè è la mia si è la tua ti do la giochi mai con la non posso mai giocare con la play vabbè domani ti shop a minecraft con la mia carta io regami spacco vabbè aspetta vediamo i giochi di andrei tu mi hai detto che andrei ah però lei va ti cazzo ah lei non è il board ah io non mi bruciano ah lei è il no e non è il board quindi questo qui è smith che cacchio dici è la sorella è la sorella si ecco andrei basta perchè cambio ok andrei ha giocato per 1390 ore cacchio e perchè è quello che è un merdo ah è il no neighbor a minecraft e minecraft e minecraft lo sapevo cioè a gta a fifa a paladins fifa lo sapevo questo lo sapevo arena war no minchia un botto di giochi ha un botto di giochi sua sorella ha fifa 19 ma che cacchio ne sai che è sua sorella perchè è sua sorella perchè è sua sorella perchè giocano in online è vero però in effetti le 100 ore sei su youtube tu quattro ore sei su youtube profilo non lo sai hai giocato solo 200 ore a fortnite hai giocato per più quasi più tempo a youtube che di fortnite cosa più o meno uguale 205 ore youtube e 295 fortnite il kirby un'ora ah 10 super mario 2 orte ricordi quando ce l'hanno arrivato a natale e abbiamo giocato a just dance accettiamo la richiesta d'amico di g di chi cazzo è g anfis no accettiamo per vedere quanti giochi ha minchia a fornite 500 ha giocato per 500 ore ha giocato per più tempo per più tempo a youtube che di fortnite andiamo 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 allora che cavolo è 70 ore di minecraft woman faith woman faith woman faith lo voglio ma che cazzo di problemi woman faith lo voglio io ti consiglio di non fare cazzate perchè poi ti spiegherò non non ti spiego perchè non devi fare cazzate anzi gioca come c'è fai il a tutti i lego mitia lego ninja lego ninja lego l'incredibile lego marvel che cazzo ti giochi ha ehi le parole aia però basta ora me la dai si gioco per me ti raccomando vinci per me no non vincerò mai ah perchè sei scarso io sono scarso io sono un po' della madonna ma che dici nabo di pro 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 hanno aggiunto squadre davanti poi la vedrà mi devo fare vedere la nuova fredda per fuori siti qua perché un attimo switch te lo dico io sei giù sono in partita dammelo no quando mi sto muovendo quando mi sto muovendo perché mi la dipingono si mi la dipingono tu che fai giù giù stai fare con te fai no con te lo stanno muo no? hai bagnato per prima quando ho fatto lo scherzo mi sono fatto bagnare tutto vabbè 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 ma tu hai problemi secondo me solo tu secondo me ti devi fare curare ti devi fare curare no ma tu sai che io ho ancora il mio lascio giocare a fortritt ti lascio giocare a fortritt ok edget si si edget bravissim sei si bellissim ah tu staccini tu zigo ah Fede, sai perché mi comportavo strano? No Girati Ti dovevo sfidare per 24 ore Ti dovevo sfidare per 24 ore Dai Ho visto tutto quello che facevi Tutte le frasi che hai detto E quando Fede vieni dove fare la copertina Vabbè ragazzi Alla fine il video finisce così E noi vi mandiamo un bacione E alla prossima Tu pure? Sì Mi com'è?